Ciao a tutti, ecco alcune idee per utilizzare il pirografo e rendere unico un pezzo di legno. Qui vediamo un mobiletto con dei piccoli cassettini su cui è stato scritto un nome, sono stati fatti dei decori e in particolare delle rose sulla parte alta. Da questo lato invece abbiamo fatto una bella farfalla. Questo invece è una riproduzione di un famoso dipinto e qui vediamo invece l'uso del pirografo su un portafoglio di cuoio. Non c'è alcun disegno sotto, quindi facciamo un semplice cuoricino. Se si fa sotto il disegno poi è più facile ripassarlo con la punta del pirografo. Il cuoio è molto tenero quindi bisogna stare abbastanza attenti per non fare un tratto troppo grosso e profondo. Questo è sempre un pezzo di cuoio ma dalla parte ruvida, anche qui è molto tenero quindi bisogna stare attenti. Abbiamo usato una punta abbastanza larga per fare decorazioni e nomi. Grazie a tutti per l'attenzione, visitate il nostro sito elettronicadidattica.com